Perché riteniamo valido il metodo di memorizzazione di Gianni Golfera? Il primo motivo è quello verificato dalla scienza, dai neuroscienziati, in particolare Stefano Cappa e San Raffaele. Poi abbiamo avuto modo di seguire i suoi corsi e quindi di constatare di persona che i suoi metodi sono efficaci, tant'è che dieci anni fa assieme al giornalista Edoardo Rosati, giornalista medico scientifico di oggi, del settimanale oggi, scrivemmo la memoria emotiva, memoria emotiva che contiene anche testimonianze di Odi Freddi, Cardini e in particolare un capitoletto conclusivo dello scienziato che studiò Gianni Golfera, Stefano Cappa. Stefano Cappa alla fine di questo volume parlò delle straordinarie capacità di Gianni Golfera, in particolare, queste sono le sue esatte parole, con sufficiente applicazione disse dovremmo essere tutti in grado di realizzare prestazioni straordinarie che ho avuto l'opportunità di rilevare direttamente nel caso di Gianni. Siccome Gianni Golfera io ritengo che sia un personaggio dotato di super memoria, non tutti i comuni mortali sono in grado di arrivare alle sue capacità mnemoniche, ma con sufficiente applicazione, come dice Stefano Cappa, sono in grado di potenziare e aumentare l'efficacia e l'efficienza della capacità mnemonica, perché ricordiamoci che la memoria non è tanto incamerare delle informazioni, ma l'elemento fondamentale è recuperarle nel momento esatto in cui ci occorrono.